Le ultime 24 ore hanno fatto registrare un nuovo aumento dei contagi nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. In quest'ultimo caso si tratta di soggetti positivi che preoccupano soltanto relativamente. Si tratta infatti di persone che si trovavano già da tempo in quarantena per aver avuto contatti con persone risultate contagiate. L'ultimo caso è stato segnalato a Sala Consilina dove il giorno precedente si erano registrati anche ulteriori tre contagi, uno a Sansa. Nel Cilento le ultime notizie relative a soggetti contagiati dal coronavirus sono giunte da Casalvelino e Montecorice. Nel primo caso si tratta di un ventenne rientrato dall'Inghilterra insieme ad altri due coetani, tutti in isolamento. In seguito al comparire dei sintomi su uno di loro è stato disposto il tampone che ha confermato la positività. Più complessa la situazione a Montecorice dove dove essere risultato positivo all'esame è un 33enne asintomatico. Il giovane lavorava in una farmacia di battipaia. Probabile che qui sia avvenuto il contagio, considerato che si segnalano anche altri cinque casi. Ieri era emerso un contagio anche ad Agropoli, si tratta di un commerciante di Cava dei Tirreni che stava trascorrendo questo periodo di quarantena dalla compagna nel Cilento. I due non hanno avuto contatti con l'esterno, dunque il virus dovrebbe essere circoscritto.